Questo video, è presentato da, Brico Joe. La ferramenta, che ti accontenta. Portala, lontano. Idea, spaziale. Idea, geniale. Si parte, per Marte. Senza arte, né parte. Se è rossa, la spera. Buon viaggio, si spera. Parlo, non ascolti, ascolti, ma non parlo. Parlo, non ascolti, ascolti, ma non parlo. Idea, non dai. Idea, non dai. Bestiale, ti metti a, da parte. E piantala, su Marte. Parlo, non ascolti, ascolti, ma non parlo. Parlo, non ascolti, ascolti, ma non parlo. Parlo, non ascolti, ma non ascolti, ma non ascolti. Parlo, non ascolti. La gente si morte, lo sai, si diverte! 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 La gente si morte, lo sai, si diverte!